Radio GON risultati classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli a cura della redazione sportiva di Radio Lattemiele Ascoli. Le nostre trasmissioni sportive e le radio cronache sono sostenute da Fine Plast di Battista Faraotti azienda specializzata nella produzione di compound materiale plastico in forma granulare. Fine Plast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno. Se punti alla cucina ascolana, usa l'arco. Ristorante pizzeria, l'arco. La tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria, l'arco. Via quattro novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì. Telefono zero sette tre sei trenta quarantaquattro novanta. Ristruttura e arreda la tua casa con noi. Nardinocchi arredamenti è qualità, stile, design e ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per un vero servizio chiave in mano. Tutta la tua casa firmata a Nardinocchi. Showroom ad Appignano del Tronto e Porto d'Ascoli. Arredamenti Nardinocchi punto it. E ora con il bonus mobili. Il risparmio è assicurato. Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere, dalle diciannove alle tre, in via trentosette, angolo lungomare Marconi, alba adriatica. Per info e prenotazioni zero otto sei uno settantuno zero otto sessantasei. Seguici su Facebook sulla pagina birreria Alpenrosa. Alpenrosa, prosit. Autofficina Cappelli SNC, centro riparazione Peugeot, gommista, elettrauto, centro revisione, ad Ascoli Piceno, in via del commercio diciotto. Pizzeria e buona furia. In via Dino Angelini tre ad Ascoli Piceno. Troverai impasti ad alta idratazione realizzati con un blend di farine tutte rigorosamente a marchio bio con grani marchigiani. Pizza al taglio, al piatto d'apporto, in loco. Pizzeria è buona furia, naturalmente buona. Telefono zero sette tre sei due sei due sette tre quattro. Due rotelle gambero rosso e vincitrice di Pizza Hero. Ascoli Piceno. I migliori tessuti e imbottiture, i materiali di alta qualità, le tecnologie innovative, le trovi da Nardinocchi Arredamenti, per materassi capaci di migliorare la qualità della tua vita. Nardinocchi Arredamenti, nuovo showroom a Pignano del Tronto. Info e appuntamenti zero sette tre sei ottantasei duecentocinquanta. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via palestro diciassette. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menu gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le diciannove e le venti, avrete uno sconto del quindici per cento. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor. Io sono ancora qua. Gioca come te, sogna come te, ama come te. Lattemiele, somiglia a te. Buonasera a tutti, la redazione sportiva di Lattemiele vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Radio Gol. Ai microfoni Alberto Crementi ed insieme a me oggi Edoardo Ciriaci. Ciao Edoardo. Ciao Alberto e tutti i nostri radio ascoltatori. Salutiamo il resto della redazione. Eugenio Gaspari in regia, naturalmente dopo le sue esplosioni di gioia, il gol di Eric Botteguin, l'avrete sentite. Chi non ha potuto vedere la partita in televisione avrà sentito il grande entusiasmo di Eugenio Gaspari, ma come di tutti noi, per il gol al novantesimo a Terni, salutiamo naturalmente anche Serafino Galli, Armando Falcioni che ci ascoltano per dire una volta di più che Lascoli non muore mai. È una legge che qualche volta, quest'anno in particolare direi, ci stavamo un po' dimenticando. In realtà c'è quel qualcosa in più che gli avversari penso adesso comincino a a temere fortemente perché la vittoria di Terni dell'Ascoli e poi al novantesimo, quindi praticamente l'ultima palla buona per cercare di risorgere dopo tre pareggi consecutivi e la vittoria che mancava da quattro giornate. Insomma è stata una 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 benedizione dal cielo, ma siccome nulla avviene per caso, è stato Eric Botteguina a metterla dentro. Il ritorno di un grande giocatore che era mancato all'Ascoli e lui si sentiva un po' fuori dal giro nel dopo Castori, poi l'infortunio, ma insomma adesso per il rush finale, queste ultime tre giornate avremo sicuramente un'arma in più. Edoardo Ciriaci, cominciamo dalla fine, dal novantesimo. Anche tu immagino non sia stato molto tranquillo dopo il gol di Botteguina. No, 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 assolutamente, anzi ho provato a trattenere l'entusiasmo perché l'orario era quello che chiede abbastanza calma, soprattutto quando si è a casa, però ecco, era importantissimo vincere, come poi abbiamo commentato insieme a Dio Eugenio subito dopo il triplice fischio. Era una partita per molti decisiva e sapevamo che l'Ascoli dopo i pareggi doveva per forza fare un risultato serio, rotondo di quelli che ci piacciono. Il caso, il destino, chiamatelo un po' come volete, ha voluto che proprio Eric Botteguin infilasse il gol della vittoria con ottimo assist, magari non cercato, ma fortunato di Bellucci che ha fatto una grandissima partita sull'ex Federico Dionisi. Partiamo anche dalle decisioni del giudice sportivo, proprio Bellucci mancherà, ci sono anche due squalificati nella prossima avversaria dell'Ascoli che è il Cosenza, no Edoardo? Sì, Micai sicuramente squalificato. Già il fatto che non ci sia il portiere titolare potrebbe essere un vantaggio non da poco per l'Ascoli, no? Sì. La pensi così? Mancherà anche Venturi, anche Venturi mancherà, beh sicuramente potrebbe essere un vantaggio anche perché Micai è un grandissimo portiere, ricordo che l'Ascoli ci aveva pensato nel tempo di mercato, poi però lui ha voluto restare a Cosenza e fa un altro grande campionato e vedremo, anche noi comunque con il secondo portiere ci stiamo difendendo abbastanza bene. Abbiamo un secondo portiere per modo di dire ma non lo sapevamo, il problema è quello, invece loro hanno Marson se non sbaglio che mi sembra che non sia esattamente un esperto della categoria però lo vedremo questo, tra non molto è, vi ricordiamo che si gioca il primo maggio quindi dopo domani, un po' questa puntata anticipa e in questo ci aiuterà Edoardo Ciriaci che è abituato a parlare con occhio alla prossima anche dell'avversario che arriverà perché non dimentichiamo che il calendario della Serie B nelle ultime giornate si fa fitto fitto, abbiamo il primo maggio quindi una giornata festiva della quale si approfitterà per giocare tutti alle ore 15 poi il turno del sabato e della domenica per finire poi con il venerdì alle 20 e 30 in contemporanea l'ultima giornata nella quale qualche verdetto sarà già stato scritto ma qualcuno no ci sono un po' di polemiche Edoardo per la contemporaneità delle partite alla terz'ultima perché come sappiamo è vero che è il primo maggio e si gioca alle 15 tutti giocano il primo maggio però non tutti alle 15 l'Ascoli per esempio sì ma il Bari giocherà alle 18 con il Parma che a quel punto potrebbe clamorosamente essere già promosso in Serie A se alle 15 il Como non dovesse battere il Cittadella o il Venezia non dovesse passare a Catanzaro quindi non è esattamente il modo migliore per garantire l'equità della condizione psicologica delle squadre in campo no? Sì diciamo che ormai è una polemica continua tra calendari asimmetrici o comunque partite non contemporanee di questo si è parlato tanto sui social dal punto che molti tifosi avevano tra virgolette chiesto con le buone al patron Pulcinelli di spostare l'attenzione su questo fattore qui però ecco non credo si possa fare molto ma bisogna sicuramente rifletterci perché poi ovviamente noi ci fidiamo dei protagonisti che vanno in campo e della loro responsabilità ecco nel non voler tra virgolette falsare un campionato però come hai detto tu le possibilità possono esserci. Sì anche involontariamente è chiaro che tu ricevi la notizia che sei matematicamente in Serie A come minimo abbracci compagni ti lasci un attimo andare e dall'altra parte trovi un Bari che è in serie negativa infinita e che ha bisogno assolutamente di vincere neanche di pareggiare quindi io non credo che il Parma si lascerà andare così facilmente ma preferirei vedere dopo Catanzaro Venezia il risultato dell'andata che fu 2 a 1 per il Venezia così ci togliamo ogni dubbio e ricordiamo anche i numeri con i quali potete partecipare alla nostra trasmissione come al solito 0 7 3 6 30 41 31 per chi vuole chiamare sms whatsapp sono già arrivati stanno arrivando e arriveranno al 3 2 7 5 9 4 7 7 7 3 li leggeremo come al solito tutti sempre a proposito di questa partita che arriva quella con il Cosenza il Cosenza con la clamorosa vittoria almeno numericamente parlando contro il Bari ossia un 4 a 1 veramente già già decisa quasi nel primo tempo una partita nella quale il Cosenza ha fatto la voce grossa arriva ad Ascoli con ben 5 punti di vantaggio e forse questo non ce l'aspettavamo vero? No assolutamente l'avevamo ad occhiata indicata come possibile squadra che poteva essere risucchiata dal tornado della zona retrocessione è tornato Viali quindi diciamo che era ancora fresca la ferita lasciata dall'ex allenatore bianconero quindi stavamo valutando è una sconfitta che sicuramente spiazza arriva però contro un avversario che non è nel miglior momento di forma non dico di questa stagione ma forse degli ultimi anni perché un Bari in questo piazzamento non se lo aspettava nessuno considerato l'anno scorso che fosse in finale per i playoff cioè erano a 5 secondi ma non è un modo di dire dalla serie A esatto e adesso sono praticamente in serie C finisce oggi il campionato questa è una cosa clamorosa avendo cambiato poi quattro allenatori adesso in panchina c'è il fratello di Marco Giampaolo Federico che con tutto il rispetto ma non ha mai allenato una formazione non so quanto e come potrà gestire uno spogliatoio che evidentemente ha tanti problemi se sono saltati tanti allenatori e se è vero che una delegazione di questi giocatori del Bari era andata a chiedere la testa di Iachini non più di 15 giorni fa quindi vuol dire che insomma tanto le acque tranquille non sono in Puglia e il calendario e il calendario per il Bari non è un granché visto che poi dovranno andare a Cittadella e l'ultima l'avranno in casa con il Brescia che sono comunque due squadre almeno il Cittadella se li deve conquistare i playoff potrebbe però farcela il Brescia ha un piede nei playoff però è proprio lì che lotta con il Cittadella il Pisa la Sampdoria quindi sono tutte squadre che qualche motivazione ce l'hanno ma è quello che preoccupa di più i tifosi dei galletti è proprio la mancanza di spirito la mancanza il crollo che si verifica quasi ogni domenica nelle ultime cinque ne hanno perse due ne hanno pareggiate ne hanno perse tre ne hanno pareggiate due mentre chi è veramente in forma nelle ultime partite sono proprio il Cosenza e Lascoli perché il Cosenza ha fatto otto punti nelle ultime quattro quindi una media da promozione Lascoli ne ha fatti sei grazie a questa vittoria e allora se guardiamo anche allo stato di forma cominciamo a vedere come i pareggi sono fioccati nelle ultime giornate questo significa che la paura ha preso un po' tutti sì no questo questo è vero sarà sicuramente uno scontro importantissimo tra due formazioni che arrivano nel modo migliore con due vittorie importanti e con punti in palio molto pesanti se non calcolo male a Cosenza dovrebbe bastare un solo punto per la salvezza aritmetica e quindi sicuramente non verrà in Ascoli a passeggiare ma l'Ascoli non vorrà sicuramente arrendersi perché trovato magari il segreto per tornare a vincere vorrà continuare a fare bene Mariano ci ha scritto subito e mi chiede la settimana scorsa eri rassegnato oggi invece non ero rassegnato alla serie c no intendiamoci ero scoraggiato è un altro tipo di parole ero scoraggiato perché avevo visto delle prestazioni gli ultimi 3 0 a 0 che non mi lasciavano spazio a un'illusione l'illusione poi c'è stata grazie fortunatamente al rientro dell'unico bomber che abbiamo in squadra che guarda a casa è un difensore ed è un giocatore di grande esperienza ed è un brasiliano ed è uno legato alla maglia dell'Ascoli non sottovalutiamo questi aspetti perché scendere in campo tanto per non è esattamente la stessa cosa di chi scende in campo sapendo cosa c'è dietro e c'è stata anche una mezza polemica tanto per cambiare nei momenti meno opportuni del patron pulcinelli no edoardo che si è un po' ringalluzzito io spezzo una lancia a favore di pulcinelli per dire che ha fatto bene a dire le cose prima della partita a mandare la squadra in ritiro a dire a continuare a cercare una tregua anche se poi se accendi la miccia e poi difficile spegnerla quindi vabbè ha cercato una tregua per il bene dell'Ascoli ma questo noi glielo dicevamo i tifosi glielo dicevano già da mesi insomma invece in quel periodo erano scomparsi lui e tutti gli altri dirigenti invece adesso dopo la vittoria però non ha dato seguito alle buone intenzioni cioè tu dovevi continuare probabilmente a adoperare una captazio benevolenza nei confronti dei tifosi cioè rifarteli amici dicendo avete visto avevo ragione io no invece ha voluto fare quello che che cosa ha detto edoardo come ha scritto praticamente sul proprio profilo instagram ha postato una foto dei 56 tifosi presenti a liberati con con sotto una didascalia se così vogliamo dire senza cuori contro si vince quasi a voler dire che è l'ambiente che si respira in Ascoli ad essere la causa di questo posizionamento quando più volte abbiamo detto qui ma ovunque che la tifoseria è sempre stata vicino alla squadra e non credo che ci sia stata una sola volta in cui abbiamo sentito dei cori contro la squadra o contro i ragazzi che vanno in campo no infatti i cori sono sempre stati per la proprietà e per qualche dirigente o non dirigente un'altra cosa che un po mi ha fatto storcere il naso tu hai visto anche il tu sei molto social io un po meno quello che ha scritto botteghine ha scritto una cosa molto bella no sui gol che ha segnato però c'è stato il commento di pulcinelli anche in questo caso che l'ha rilanciato alla sua maniera parliamone sì diciamo che più che un post è stato diciamo ha ripostato quello che è stata la sua conferenza stampa la conferenza stampa di botteghine dove appunto ringraziavi i tifosi diceva che questo gol era proprio per loro perché non non siamo potuti essere lì alliberati per la questione della testa del tifoso ha dato onore ai tifosi ha dato merito ha riconosciuto le tante trasferte eccetera eccetera pulcinelli ha risposto non sono bravo quanto botteghine diciamo a ringraziare ecco vabbè quindi due frecciatine non se le fate mancare neanche questa volta no ma più che altro è stato un peccato perché poi vogliamo svelare questa retroscena io appena ho sentito la conferenza gli ho scritto pulcinelli perfetto in conferenza ed è durato pochissimo perché allora sentiamo la la perfezione di cui parla eduardo siriaci allora gli aspetti tecnico tattici ovviamente non parlo perché non è il mio mestiere ma sicuramente ho visto dei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano ci credevamo tutti quanti e poi l'episodio è girato a favore nostra insomma rispetto alla traversa di casa sola se non ricordo male i cinque giorni di ritiro sono stati importanti e sono stato anch'io con con i ragazzi ho visto un gruppo molto coeso molto affiatato questo mi fa un bel sperare è chiaro che ancora oggi non abbiamo raggiunto nulla sapete bene no però portare a casa tre punti sicuramente per noi è importantissimo perché restare da soli sempre nella zona retrocessione come sicuramente l'umore con le partite chiaramente che ne rimangono sempre meno sarebbe stato un po più tosta un po più dura perciò tornare alla vittoria ci fa sicuramente bene se non fosse altro oltre la classifica anche al morale questa vittoria la dedico al mio amico mariano morosini è il primo tifoso che abbiamo ad ascoli che piangeva al telefono prima e a questo gruppo fantastico dal mister in giù a tutti i ragazzi perché ci hanno veramente messo tutto il loro cuore e anche la mia famiglia che soffre insieme a me perché comunque essere in zona retrocessione è una sofferenza estrema è un padrone pulcinelli che è sempre stato comunque vicino alla squadra ma che in questo momento ha deciso di scendere in campo in prima persona per conquistare questa talvezza che non tutto l'ambiente diciamo ma io ho sempre ragionato nello stesso modo sono sei anni che faccio calcio quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare io ci metto tutto quello che posso poi dove arriviamo lo diranno le partite e la casseria stiamo a vedere però comunque siamo convinti di poter ancora dire la nostra se poi giocheremo play out se poi ci serveremo direttamente dipenderà dai risultati del campo oltre ai nostri anche quelli degli altri nostri concorrenti della zona sicuramente le attenzioni di tutti sono concentrate sul campo ma in settimana ci sono state delle voci su interessamenti per la società che hanno che sarebbero stati mostrati nei suoi confronti vuole lasciare un commento su questo? Ma io posso solamente dirvi questo credo che abbiamo attualmente 20 NDA o loi il calcio è regolarmente un voler essere in movimento perciò l'arrivo di potenziali nuovi soci o compratori analizziamo tutte le opportunità del caso fino ad oggi non c'è stato nulla di serie di concreto perciò siamo noi a gestire la società e a e a fare tutto quello che ci completa e ci aspetta poi se ci saranno le novità a me piace parlare dopo il fatto che si sia parlato prima penso che sia una cosa estremamente deleteria e poco e poco rispettosa se non fosse altro che i ragazzi che vanno in campo sicuramente questo atteggiamento di comunicare un qualcosa quando nulla è stato firmato tranne una lettera di interesse mi sembra veramente poco serio non rientra nel mio stile ma non dipende solamente da me questo è quello che posso dirvi su questo tema però ci sono almeno 20 lettere di interesse in casa degli azionisti dell'ascoli cazzo però prima pensiamo a mantenere la categoria poi pensiamo al resto bene pulcinelli ha parlato lettera di interesse lettere di interesse ce ne sono 20 una ventina edoardo questa era forse la notizia del giorno doveva essere addirittura più della vittoria a Terni perché tutto questo interesse per l'ascoli ma fino a qualche mese fa piangeva non dico miseria la proprietà dicendo che tanto non c'è nessuno non c'è nessuno adesso sono 20 lettere di interesse diciamo che più che altro era un lettere di interesse magari lui diceva senza nulla di concreto nel senso ci informiamo ma senza effettivamente poter poi scendere in campo però l'ultima di cui si è parlato tanto di cui sono stati fatti anche i nomi e sono già state analizzate alla camera di commercio sono state fatti le pulce le varie società dai tifosi bianconeri che per questo sono sempre in prima linea però di questo ha detto c'è una qualcosa di concreto cioè prima ha detto non c'è niente di concreto poi ha detto che c'è qualcosa di concreto e che forse non andava svelato prima la verità dov'è? Bella domanda che qualcosa ci sarà sicuramente sì sì no ma sicuramente vuole aspettare magari secondo me vuole vogliono capire un attimo che fine farà l'ascoli e poi approfondire per per questi discorsi però da come abbiamo letto anche sui vari quotidiani sembra che sia una cosa abbastanza seria addirittura dicevano che c'era un'opzione anche per l'eventuale retrocessione quindi vediamo se se è solo un interesse se rimarrà solo un interesse o meno perché che ci sia è in dubbio alla fine l'ho ammesso anche il patron non è che abbia detto che non è vero ha detto semplicemente che non l'avrebbe detto prima ecco diciamo così ci ha scritto Gian Leo dicendo se non erro dovrebbe essere Dorazio secondo squalificato siccome aveva nove gialli giusto no il secondo squalificato è Venturi come ha detto prima Edoardo che poi sono i primi due della formazione quando scendono in campo perché sono il laterale destro o comunque il centrale di destra e il portiere non mi sembra che Dorazio sia stato squalificato anzi sono sicuro perché abbiamo letto le squalifiche abbiamo letto anche la designazione dell'arbitro sì piccinini piccinini leggevo c'erano sui social un po di polemiche lo sa che ne siamo contro il lo specificare la provenienza la polemica infatti lì la stoppo immediatamente perché noi quest'anno abbiamo scelto di non dire la provenienza degli arbitri proprio perché su questa linea si è mossa innanzitutto la Lega e poi anche l'AIA la direzione degli arbitri avendo mandato degli arbitri romani ad arbitrare la Lazio milanese arbitrare l'Inter non vedo quale sia il problema se al Var c'è qualcuno che non ci piace o in campo c'è qualcuno che non ci piace come territorialità e continuo a non dirlo di dove sono non mi interessa minimamente vorrei che questo passasse come modo anche di stemperare un po certe tensioni che secondo me non hanno motivo di esistere perché se arrivi in Serie A devi essere un professionista e se vuoi essere un professionista non ti puoi permettere di fare favori o meno se sei sommaro sbagli e quest'anno ne abbiamo visti tanti risomari soprattutto al Var ma io parlo di sommaraggi non di di malafede io sulla malafede poche volte mi sono pronunciato ci possono essere arbitri che portano sfortuna all'ascolo come ai roldi quella è sfortuna diciamo così perché non abbiamo mai vinto con lui sì e anche quando è stato al Var qualche problema c'è stato però da qui a dire che insomma ci sono problemi perché al Var ci sarà un arbitro di una potenziale rivale io questo continuo a non crederlo comunque gli assistenti saranno Emanuele Daisuke anzi si chiama Emanuele Daisuke Yoshikawa per la precisione e Fabrizianello Ricciardi quarto ufficiale Gianluca Renzi al Var Luigi Nasca assistente al Var Daniele Chiffi quindi comunque sono nomi importanti per la Serie B perché Piccinini è un arbitro di Serie A così come lo sono Chiffi e Nasca hanno un buon nome diciamo quindi questo è per garantire almeno alla fine che negli scontri diretti non ci siano problemi dovuti all'inesperienza se non altro o a chi vive troppo la tensione di partite così importanti Ascoli Cosenza cosa dobbiamo aspettarci secondo te Edoardo? Una reazione forte una reazione forte un Ascoli che deve tornare a vincere anche in casa perché la vittoria con il Como è servita ma non è bastata quindi serve veramente il primo guizzo di quest'Ascoli per trascinarsi dietro ancora più possibile non solo i tifosi ma anche quelli che magari avevano mollato e secondo me un risultato rotondo può davvero dare la svolta giusta per godersi un finale di campionato con i come siamo abituati. Altra partita Suttirol Ternana Suttirol è forse la squadra che ha meno da chiedere di tutte assieme al Modena e alla Reggiana che sono abbastanza solide a quota 43 ma un po' troppo lontane forse anche per il numero di squadre che hanno davanti dai playoff quindi qui forse dove Breda dovrà andare a prendere tre punti come ultima spiaggia questa volta per loro. Sì sì perché comunque il Suttirol è riuscito a rialzarsi da un momento in cui sembrava irriconoscibile o almeno aveva perso quella cattiveria agonistica che era anche un po' impronta di Bisoli che era stata che aveva portato il Suttirol a diventare una vera sorpresa in Serie B per Breda adesso servirà a fare qualcosa di più perché è una sconfitta che pesa una sconfitta in uno scontro diretto in una partita non giocata neanche malissimo dalla Ternana perché le occasioni ci sono anche state da gol poi è stato bravo Lascoli con la difesa a negarle però possono possono fare di più ovviamente per Lascoli c'è da sperare che questo non succeda. Non abbiamo citato l'intervento di Costantino Rozzi sul tiro di Casasola che è stato probabilmente l'intervento più importante quello che ha fatto finire una palla che credo tutti abbiamo visto dentro però un elogio va anche a Vasquez perché si è tuffato impedendo il rasoterra facile facile il tocchetto a Casasola che avrebbe messo la palla in sicurezza lo ha costretto a tirare alzando un po' la parabola e quindi a quel punto caricando il tiro però una parabola del genere che con un palo interno va fuori diciamo che si vede veramente poche volte quella potrebbe essere la svolta della dea bendata che tante volte cambia i campionati in corso. No diciamo che ormai anche sui social no ci eravamo appellati alle divinità ormai le nostre divinità ovviamente di questo parliamo anche con The Burr ci sono state due occasioni dove poteva poteva finire male è scivolato in entrambi secondo me anche lì Carletto Mazzone ecco magari lo ha strattonato se così vogliamo dire però è stata una vittoria importantissima e sono felice soprattutto per Bottegin perché come poi ha detto era era stato difficile seguire la squadra restando fuori lui che è capitano e farlo con i gol è cosa importantissima. Pietro di Ascoli scrive è questo l'Ascoli che vorremmo vedere sempre che combatte non molla mai alla fine i risultati vengono quando ho visto il giocatore della Ternana che solo davanti alla porta ha sbagliato mettendo il pallone sulla traversa in realtà sul palo ho pensato che era un buon segno per la salvezza però concentrati al massimo in queste tre partite è fondamentale quella col Cosenza perché se perdiamo i tre punti potremmo essere a un punto dalla salvezza diretta comunque mi sa tanto che lassù qualcuno pensa all'Ascoli allora Pietro se dovessimo vincere con il Cosenza non è che saremmo a un punto dalla salvezza diretta a un punto è proprio no perché andremo a 40 e il Cosenza rimarrebbe a 42 e poi bisogna vedere cosa fanno quelle dietro perché se non vincono tutte e due o almeno una delle due saremmo già nella salvezza diretta quindi la classifica dice altro però è vero che è importantissimo in questo turno che l'Ascoli faccia bottino pieno perché poi dopo si va a Palermo l'ultima viene il Pisa sono partite che hanno qualche incertezza in più soprattutto per il valore degli avversari parlo del Palermo che ne ha perse tante ultimamente non vince più continua a perdere a pareggiare però ecco se dovesse essere ancora in lizza per i playoff alla prossima giornata e non già qualificata io mi preoccuperei un po' perché la trasferta di Palermo non è mai una trasferta facile anche per il fattore campo che giù si sente no Edoardo? Assolutamente sì è un campo difficilissimo e poi come è ben detto vivono una situazione legata ai risultati non ha fatto positiva e quindi fino all'ultimo cercheranno di dare l'anima per tra virgolette salvare una stagione che è la partita anche bene e sta finendo male così se vogliamo dire perché poi l'obiettivo di queste squadre sono quelle di fare il salto di salto di categoria e quindi andare giù non è mai facile. Ma sicuramente esatto Palermo non rischia assolutamente la retrocessione però però per quello che ha dietro cioè il gruppo del Manchester City e abbiamo visto gli investimenti che sono stati fatti un centro sportivo che era inaugurato meno di un mese fa che è una meraviglia nel vero senso della parola e con tanti investimenti ancora in programma quindi non hanno alcuna fretta perché chissà programmare una fretta e non fa proclami programma e prima o poi i risultati arrivano se lavori in un certo modo come è successo alla fine con il Parma che sono due o tre anni che ci prova ci prova ma alla fine questo è sicuramente l'anno buono almeno secondo me per il Parma ma già si capiva a metà campionato ma quello che dicevo è che il Palermo non ha tutta questa urgenza di salire subito cioè è già stato dichiarato anche dalla proprietà in occasione dell'inaugurazione del centro che vi dicevo che non c'è fretta di salire bisogna farlo quando si è pronti quindi se quest'anno si arriva ai play off ci si prova e si guadagna magari un anno se dovesse andare tutto bene ma se non ci andiamo non succede niente perché il cammino da fare è ancora molto lungo e questi sono discorsi che mettono anche tranquillità all'ambiente se non altro eviti quello che sta succedendo a Bari come hai detto tu la crisi del Bari secondo me è venuta dalle altissime aspettative di una piazza che era arrivata a cinque secondi dalla serie A sì sì purtroppo è così è toccare il paradiso con un dito e poi ritrovarsi di colpo all'inferno senza valutare le conseguenze di una stagione che veramente ha dell'incredibile purtroppo poi succede no che capita un po' tutto il contrario e rialzarsi è sempre più difficile perché poi non sai a chi o a cosa poterti appigliare e questa è una situazione che non si augura ovviamente a nessuno ma che quando poi ti trovi è un tornado da cui è difficilissimo uscire soprattutto per una squadra che se vogliamo dire a differenza dell'Ascoli ha altissime pretese proprio perché era lì ad un passo Marcello Marinelli ci scrive tre partite per sognare un'altra storica salvezza da mettere in bacheca come quella raggiunta con bersellinina il presidente deve rendersi conto che ha in mano una grande compagine con un grande seguito e questo seguito deve essere rispettato noi siamo l'asco di calcio noi siamo la storia e non possiamo ogni anno svolgere un mediocre campionato la squadra si fa inizio campionato con una buona programmazione parole sante quelle di Marcello magari di salvezze epiche più che ricordare quella di bersellini che è ben lontana facciamo prima ricordare quelle più vicine visto che non è che ne abbiamo passate poche soprattutto in serie b poi bersellini era in serie a ed erano altri tempi valvi brata bianconera siamo ancora vivi spero che il clamoroso gol fallito la casa sola che era più facile segnare che colpire il palo sia la sliding door del nostro campionato sulla partita poco da dire a parte che la ternana gioca meglio in trasferta che in casa sembrava che loro avessero più paura e hanno creato pochissimo abbiamo creato sciupato più noi alla fine la vittoria ci può stare tarantino non mi è sembrato male anzi l'arbitro non arbitrata l'inglese di più sembrava non avesse il fischietto non ha fischiato falli e trattenute evidenti per entrambe le squadre rischiando di fare incattivire la partita brutte le parole di dionisi contro bellusce fanno capire che uomo è ora siamo quasi padroni del nostro destino assurdo far giocare il parma dopo il venezia perché potrebbe festeggiare già nello spogliatoio purtroppo comandano le televisioni ora il cosenza che è una delle squadre più in forma alla quale mancheranno mica e venturi e non è poco com'è strana la serie b il bari era due minuti da là veramente a due secondi da là e quest'anno rischia la c mentre il breccia era in c e poi fare i playoff questo è il parere di valvibrata bianconera mi distacco da questo parere per quanto riguarda dionisi perché dice brutte le parole di dionisi contro bellusci e fanno capire che uomo è allora che uomo è dionisi non lo puoi giudicare da quelle parole intanto le parole erano successive a un fallo abbastanza cattivo devo dire sì perché era un lontano dall'area di rigore non c'era pericolo e bellusci è entrato veramente duro ci sta io mica dico che bellusci non lo doveva fare e quella è la reazione di un giocatore ossia dionisi che agli anni e sa benissimo che un colpo del genere potrebbe pesare ben più che se non fatto ad altri soprattutto in un altro contesto di gioco sbaglio edoardo oppure hai avuto anche tu l'impressione che fosse più una reazione allora diciamo che hai visto malizia in quelle parolacce assolutamente no assolutamente no perché oltre a quello che hai detto tu rispondo banalmente che il calcio è anche questo purtroppo è reazione cioè vediamo scontri tra compagni di squadra figuriamoci tra avversari poi ecco quello che c'è stato passato comunque importante insieme per un attimo viene quasi dimenticato no dal dall'adrenalina dal dal momento perché poi ci si giocano partite importanti e sia bellusci che dionisi sono due capitani veri di cuore che sentono le partite un po come il calcio di una volta dove si può mettere la gamba si mette non non preoccupandosi delle delle conseguenze sono parole questi rival vibrata bianconera che non mi aspetto magari da chi dionisi lo ha avuto in squadra anzi di chi è stato il proprio capitano perché sappiamo come è fatto sappiamo il suo atteggiamento e sappiamo che se viene messo capitano anche perché può avere più spazio di parlare con l'arbitro e comunque io il giudizio su dionisi uomo mai e poi mai lo affiderei a queste parole ma sono questioni di campo c'è ragazzi esatto anche perché comunque ascoli e ascoli i rapporti fra i due non fossero idilli si sapeva quindi se gli scappa una parolaccia non ci pensa due volte a dirla la dice perché in quel in quel contesto ci può stare ma chi se ne frega cioè le diciamo noi quando giochiamo fra amici le parolacce figuriamo se non le dicono due che si stanno comunque giocando un pezzo di salvezza per un fallo ripeto tutto sommato anche abbastanza cattivello certo e inaspettato missi 67 leggiamo anche lui prima di andare in pubblicità gentile redazione caro alberto premesso che siamo una squadra costruita male con mille difficoltà con un attacco imbarazzante a parte mendes ma mercoledì come si fa a disegnare nasca al var ecco la polemica di cui parlavamo prima e poi c'è bari parma alle 18 mentre come cittadelle catanzaro venezia alle 15 significa che se il venezia perde il parma pur perdendo in serie a e va in campo con l'infradito io non credo però libero di pensarlo che schifo dice missi spero la società si faccia sentire ma dubito perché tra due giorni si torna in campo e non c'è tempo per protestare per questa pagliacciata speriamo in botteghi in prima punta mercoledì purtroppo loro sono una buona squadra con un attacco mostruoso rispetto al nostro e con viali con il dente avvenenato speriamo faccia la fine di breda non molliamo però fino all'ultimo secondo e speriamo in carletto e costantino solo e sempre forza ascoli missi 67 allora ripeto che non daremo seguito a questa polemica perché ne abbiamo già parlato e la chiudiamo qui io comunque botteghi in prima punta non lo metterei mai no neanche io basta farlo salire sui calci d'angolo le punizioni calci d'angolo perché sono la prima punta non ha esattamente la mobilità devi fare 80 cross a partita e chi li fa gli 80 cross che 80 cross abbiamo fatto in tutto il campionato probabilmente anche perché penso che l'ultimo gol di piedi di botteghi in sia quello a parma sì no sicuramente ma quindi sì ovviamente immagino fosse così un goliardico il commento però è no ma io credo che ci sia qualcuno che lo pensa veramente perché siccome è il secondo bomber dell'ascoli vuoi o non vuoi beh certo quindi facciamolo giocare in attacco ma anche se questa è una tendenza che nel calcio moderno si è visto spesso soprattutto nei minuti finali per entrare i difensori centrali come punte siamo stati fra i primi a fare una cosa del genere io ricordo benissimo che quando cioffi era l'allenato era giocava nell'ascoli perché molti magari si sono dimenticati che ha giocato qualche partita qui l'ex allenatore del verone dell'udinese perché era alto grande grosso non era un fenomeno non lo è mai stato però in attacco si faceva sentire cioffi giocava gli ultimi dieci minuti tantissime volte in attacco perché tanto eravamo sempre in affanno avevamo sempre bisogno di recuperare cioffi andava in attacco perché perché è alto perché è robusto perché colpisce di testa perché fa la spizzata perché mette in difficoltà la difesa è quello che fa botteghine solo che botteghine ha anche un po' di classe in più un po' di intelligenza calcistica in più quindi anche un pizzico di fortuna c'è da metterlo perché quel pallone gli cade preciso sulla testa no lui ha avuto la reazione e lo ha detto nell'intervista di buttarla avanti la testa se stavi fermo non gli è andata proprio addosso lui l'ha girata la testa l'ha girata verso la porta la palla secondo me lui era talmente carico che era concentratissimo su dove andava la palla a differenza di difessore la ternana perché a fine partita secondo me una palla così è più facile che passa magari inizia partita che sei più fresco anche i riflessi ti permettono magari di metterci una gamba un ginocchio l'hanno lasciato da solo l'hanno lasciato da solo e gli hanno permesso di colpire girandola proprio all'interno dell'area piccola in porta ma o ma sempre contro di noi dovrebbero succedere queste cose ogni tanto le prendiamo le portiamo a casa volentieri così come adesso diamo volentieri la linea al regista eugenio gaspari che ci delizierà con le pubblicità le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da fine plast di battista faraotti azienda specializzata nella produzione di compound materiale plastico in forma granulare fine plast zona industriale campo lungo a scolipiceno se punti alla cucina ascolana usa l'arco ristorante pizzeria l'arco la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole venerdì sera baccalà su prenotazione ristorante pizzeria l'arco via quattro novembre maltignano chiuso il mercoledì telefono zero sette tre sei trenta quaranta quattro novanta ristruttura e arreda la tua casa con noi nardinocchi arredamenti e qualità stile design e ampia scelta di pavimenti e rivestimenti e arredo bagno per un vero servizio chiave in mano tutta la tua casa firmata nardinocchi showroom ad appignano del tronto e porto d'ascoli arredamenti nardinocchi punto it e ora con il bonus mobili il risparmio è assicurato birreria pizzeria alpenrosa anche paninoteca e ristorante con sala fumatori terrazza all'aperto maxi schermo con sky e rete wifi free alpenrosa pizzeria al piatto e al metro hamburgeria con le migliori carni come chianina irlandese americana e marchigiana entra nel fantastico mondo alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici alpenrosa aperto tutte le sere dalle diciannove alle tre in via trentosette angolo lungomare marconi alba adriatica per info e prenotazioni zero otto sei uno settantuno zero otto sessantasei seguici su facebook sulla pagina birreria alpenrosa alpenrosa prosit autofficina cappelli snc centro riparazione peugeot gommista elettrauto centro revisione ad ascoli piceno in via del commercio diciotto pizzeria è buona furia in via dino angelini tre ad ascoli piceno troverai impasti ad alta idratazione realizzati con un blend di farine tutte rigorosamente a marchio bio con grani marchigiani pizza al taglio al piatto d'apporto in loco pizzeria è buona furia naturalmente buona telefono zero sette tre sei due sei due sette tre quattro due rotelle gambero rosso e vincitrice di pizza iro ascoli piceno gli occhi vogliono la loro parte ma la qualità è più importante la soluzione nardinocchi arredamenti dai migliori marchi nazionali direttamente a casa tua a prezzi accessibili per tutte le tasche e con consegna e montaggio compreso nel prezzo nardinocchi lo trovi ad appignano e san benedetto del tronto info e appuntamenti zero sette tre sei ottantasei duecentocinquanta pizzeria da bruno vi aspetta ad asco di piceno in via palestro diciassette pizzeria da bruno due forni a legna pizza ad alta digeribilità vari impasti menu gluten free consegna gratuita e se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le diciannove e le venti avrete uno sconto del quindici per cento pizzeria da bruno primo su trip advisor io sono ancora qua gioca come te sogna come te ama come te latte miele somiglia a te ben tornati dalla redazione sportiva di latte miele un saluto andiamo avanti per questi ultimi venti minuti nel quale abbiamo parlato e stiamo parlando della bella vittoria dell'ascoli a terni della situazione serie b della partita che è già alle porte dopo domani con il cosenza di una tifoseria la nostra che non ha mai mollato e non mollerà mai e che si è ringaluzzita con questa vittoria missi 67 è chiaro che la sua era una provocazione sì certo ma aveva detto che botteghine poteva essere prima punta e poi aggiunge ma streng vi sembra meglio no no per carità di dio no assolutamente ma in streng sta bene dove sta però botteghine è un difensore che poi dopo quando vai in attacco faccia scompigli un po le carte insomma questo è un discorso di un altro tipo e un altro radioascoltatore mi scrive botteghine prima punta no ma tarantino dal primo minuto sì allora tarantino parliamo di tarantino edoardo bella pescata messa mossa sorpresa qui il merito lo diamo a carriera diciamo che è la prima volta dopo gli devo dare un altro merito a carriera ne parleremo come ti è sembrato il giovine no no è stato diciamo che terni è un campo fortunato per i ragazzi della primavera che devono fare l'esordio ne lanciamo spesso e fanno sempre bene e no ha fatto vedere grandi cose per per il minutaggio che ha avuto a disposizione era stato invocato più volte no da dai tifosi che comunque lo vedevano convocato ma non lo vedevano ma in campo anche giudicare un po i suoi compagni di reparto bravo carrera a dargli una possibilità e scelta secondo me poi ripagata dal risultato dunque 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 un messaggio da danilo ecco mi mancava danilo perché è ricomparso ultimamente danilo ex corropoli adesso da san benedetto ci scrive non cominciamo a illuderci di nuovo danilo è giustissimo di suo molto diffidente se il cosenza viene per pareggiare noi torneremo ad essere come prima e lo sappiamo benissimo ora leggere sui social sembriamo il barcellona benissimo e contentissimo per la vittoria ma diamo un po di merito a costantino rozzi che ha spostato la porta sul tiro di casa sola avrai sentito che glielo ho dato il merito prima di leggere il tuo messaggio speriamo nell'ennesimo miracolo ma sarà dura comunque una cosa alla volta pensiamo a vincere mercoledì post scritto invece di parlare dell'arbitro l'assurdità e l'orario della partita del bari questo è un problema saluti danilo da san benedetto io credo che alla fine anche questo sia un falso problema perché la situazione di classifica per dare il parma già promosso è abbastanza ma non lo so non mi sembra così vicina alla promozione perché comunque il venezia dovrebbe perdere e il venezia ha una bella squadra chi ha detto che va catanzaro a perdere anzi se il venezia va a vincere a catanzaro ci fa un grandissimo favore perché poi il catanzaro ha delle partite che interessano a noi no quindi il discorso che ci sarà poi ternale a catanzaro se il catanzaro vede il suo quinto posto minacciato da qualcuno oppure non si sentono più tanto sicuri oppure potrebbero raggiungere la cremonese che oramai ha detto addio alla promozione diretta il catanzaro si gioca una posizione importante nel playoff ed è comunque una squadra pericolosa questo è vero però il venezia va a giocarsi la serie a diretta quindi io non lo so con quanta con quale spirito andrà in campo come dire per perdere o comunque per non dare l'anima per vincere io sul venezia molta fiducia mi è sempre piaciuta anzi il mio pronostico era parma venezia in serie a inizio campionato quindi edoardo tu cosa ne pensi no no è vero una grande squadra avevamo avuto poi la conferma andando a giocare lì in casa loro e sicuramente sarà credo sarà una lotta sia per la promozione che per la retrocessione che andrà fino alla fine del campionato perché ci sono veramente pochi punti che separano le varie squadre c'è il comuca sorpreso e che ha messo davvero un po' di pressione al parma che adesso non deve sbagliare ha ricominciato ecco a fare a fare punti seppur alternando pareggio e vittorie e quindi diciamo secondo me è un po' più una una moda dei tifosi di concentrarci su orari su provenienza dell'arbitro per per cercare di non pensare troppo a quello che è il campo anche questo potrebbe essere vero non concentriamoci troppo su quello che è il campo perché adesso se pensiamo comunque sì noi abbiamo vinto a terni vero però abbiamo sbagliato un'occasione incredibile con rodriguez tanto per cambiare e lì abbiamo detto per l'ennesima volta avessimo avuto un attaccante avremmo avuto meno problemi no certo e poi l'occasione anche di vaisanen se tu hai un'occasione a partita o poco più non ti puoi permettere di sbagliarla il rigore nestorowski è eloquente nessuno ha gettato la croce addosso a nestorowski io quando parliamo della maturità della tifoseria dell'ascoli ci metto anche questa cosa qui su un'altra piazza probabilmente sarebbe stato massacrato ci hai rovinato ci hai mandato in c eccetera eccetera nestorowski ha giocato una partita tranquilla a terni senza che in settimana nessuno gli abbia detto niente quindi voglio dire è un altro segno di maturità della nostra tifoseria ci può stare l'errore peccato è chiaro tutti lui per primo se ne rammaricano ma si dice peccato e si va avanti e poi arriva a botteghin e ti risolve il problema è uno dei meriti volevo dire di il merito principale secondo me di carriera è stato e questo l'ho detto una volta vista la formazione perché noi abbiamo visto masini in panchina no sì e valzania per valzania valzania vabbè non ha giocato bene è innegabile però oltre a masini in panchina c'era anche appunto botteghin e c'era rodriguez quindi non era probabilmente il miglior undici sulla carta quello che ha messo in campo carrera ma io credo che abbia fatto un ragionamento dovuto alle esperienze precedenti cioè nel secondo tempo carriera non ha mai potuto cambiare la partita perché non aveva in panchina i giocatori in grado di farlo allora si è tenuto probabilmente qualche arma ossia il dinamismo di masini no ha fatto magari spendere di più a valzania ma masini quando entrato era fresco e sappiamo che ha più energia è più in palla in questo campionato rispetto a valzania no e quindi hai alzato il tasso tecnico l'ingresso di rodriguez vivacità in attacco ma molto più di duris quindi ti sei tenuto due cambi che a partita in corso facevano la differenza e in più l'ingresso di botteghin dopo non subito ma dopo probabilmente per permettergli di non spendere troppe energie e infatti ci servirà mercoledì vista la squalifica di bellusci quindi io ho dato dei meriti a carrera per la prima volta in questa vittoria per questo motivo mia analisi il commento di edoardo mi fa no diciamo su no sono sono pienamente d'accordo anzi mancava anche d'uffizi e quello potrebbe essere un'altra arma tra virgolette in più per per un ascoli che doveva provare a fare di tutto nel nel secondo tempo è stata una una buona lettura che è andato un po' contro l'opinione popolare che ovviamente da quando avevamo ascoltato la conferenza e quindi botteghin era stato dato tre disponibili un po' tutti ci aspettavamo di vederlo dal primo minuto o comunque ce lo auguravamo bravo a carrera o comunque fortunato a a gestirlo e secondo me si aspettava che data la partita la la diffida di bellusci poteva avere un peso importante e così è stato e alla fine è stato bravo a a gestirla con i cambi e a gestire anche il reparto offensivo che secondo me è sempre più difficile da da comporre certo che vedere entrare tarantino in uno streng la dice lunga è stata una sorpresa quello è vero è stata una sorpresa ma al di laico proprio di di non vedere streng e di vedere tarantino e ben venga finalmente scelta ripagata come dicevo prima sì anche perché poi lui è ha fornito il passaggio a rodriguez che non si è tramutato in assist perché l'assist è solo quando poi viene realizzato un gol però è stato un passaggio è stato un falco lanciato su quella palla su quel passaggio e soprattutto l'ha messa benissimo a rodriguez è questo che poi fa rabbia no ma per tornare un po a quel discorso che abbiamo fatto spesso che a volte l'esperienza vale meno di di quanto un giocatore sente la partita e di quanto sia legato alla piazza uno come tarantino magari ha meno anni di calcio giocato di streng magari meno esperienza però va in campo per l'ascoli e questo poi ti porta ad essere davvero un uomo in più per per una squadra che deve dare tutto e riesce a volte a sorprendere anche con la formazione non più forte anche perché fa parte del gruppo squadra da un po' di tempo del gruppo prima squadra da un po' di tempo ha fatto bene con la primavera se ne parla bene certo è chiaro che è sempre un giovane con tutti i suoi limiti però è proprio quello probabilmente il segreto di quei giovani che entrano nei momenti cruciali e poi fanno qualcosa di positivo come abbiamo visto senza esagerare non vogliamo santificare nessuno per aver giocato quanto ha giocato è entrato che erano il ventottesimo quindi una ventina di minuti più o meno però è chiaro che se uno entra con quello spirito è un conto e se uno entra con la legnosità di streng è un altro certo no no ma ci avevano avvisato su streng purtroppo le previsioni sono state azzeccatissime la serie bianca è un campionato che ti chiede tanto e vuole tutto subito quindi difficile aspettare purtroppo non non è non è servito sapevamo quanto fosse importante per noi sistemare il reparto offensivo farlo così è stato quasi un peggioramento ascoli cosenza dunque mercoledì al del duca ore 15 precedenti al del duca sono 14 10 in b e 4 in c 5 le vittorie dell'ascoli ben 8 i pareggi una vittoria del cosenza 16 reti dell'ascoli 11 del cosenza di rosso blu dobbiamo ringraziare come sempre emiro per le preziosi informazioni che ci manda su queste partite la prima volta che gli ascolani calabresi si sono incontrati al del duca fu nel lontano 64 65 ascoli cosenza serie c girone c finì 0 a 0 e l'anno successivo stessa cosa 0 a 0 gli arbitri erano due nomi che chi ha la mia età ricorda barbaresco di cormons che è stato uno degli arbitri di fine anni 60 primi anni 70 uno dei più importanti e rostagno di torino lo stesso rostagno assistette poi l'anno dopo nel 66 67 la prima vittoria del duca dell'ascoli un 2 a 1 con reti di beccaccioli e di de mecenas per l'ascoli e autorete udite udite di carlo mazzone che regalò il 2 a 1 al cosenza ininfluente naturalmente in tempi recenti ricordiamo tutti almeno io me lo ricordo molto bene una clamorosa rimonta dell'ascoli quella con il primo tempo concluso anzi prima passò in vantaggio il cosenza con rivier sedicesimo minuto stiamo parlando del campionato 2019 2020 bruccini cinque minuti dopo raddoppiò su rigore poi però avevamo in squadra tale signor ninkovic che al trentottesimo accorciò le distanze nel secondo tempo poi una doppetta di tale gianluca scamacca magari adesso qualcuno sa chi è settantunesimo e ottantanovesimo con dei passaggi di ninkovic cioè ninkovic fece un gol e due assist in quella partita una classe immensa infinita in secondo di testa di scamacca se non ricordo male mi sembra primo di testa il secondo invece un passaggio filtrante al centro dell'area ribattuto dalla difesa ninkovic riprese la palla senza quasi nemmeno pensarci la rimise dove la voleva mettere e trovo scamacca libero che in diagonale e fu una una delle prime e poche esultanze di scamacca perché lo vedete anche come se io adesso che si vede un po più spesso chi non l'ha visto qui a rascoli è uno che esulta poco esprime poco i sentimenti ma lì si tolse la maglia lanciò tutto e negli spogliatoi ci furono delle belle interviste per la rimonta che fu importantissima anche l'inchiave salvezza per l'ascoli ci fermiamo un attimo per quanto riguarda gli amarcord perché dobbiamo dare la linea a una fedelissima chi parla? ma veramente ho detto o non mi farà parlare perché perché guarda se non era per Edoardo che voleva parlarti a tutti i costi avresti aspettato un altro po' ma tu pensa ma se lo sa Monica sa rabbia perché? Monica Mancini Cilla perché vuole che io parlo ma infatti ti sto facendo parlare perché la gente ascolta mi dice oh ti ho sentito gli dico ti piace quando parla certo perché dici le cose vere la gente mi ascolta quindi vuol dire che voi state in linea con la gente che ascolta me ah grazie a te solo ed esclusivamente anche a voi anzi gli ho detto a Edoardo gli ho detto gli dico che se vince pure la prossima devi stare attento dai non minacciarlo che cosa ti avevo fatto? me la ricordo bene me la ricordo bene ma ancora lontana ancora lontana la salvezza oh lo sai che c'è scritto sulla gazzetta dello sport? sì lo so i due eroi della partita sono stati Botteghin e quell'altro Bellucci ha detto e poi si è capito che veramente è stato messo da parte Botteghin proprio in un momento in cui l'ascoli aveva bisogno di un attaccante di un centrocampista di una persona capace di tirare in porta perché va bene però lui fu messo da parte da Castori poi si è fatto male quindi non è che si è fatto male però io ho saputo diversamente invece che lui gli aveva detto che questo non è un gioco e lui forse se ne ha avuto a male e l'ha messo da parte e nel frattempo diceva che si era fatto male almeno per sentito dire ma non Carrera Castori Castori io parlo di Castori invece Carrera non l'ha avuto a disposizione perché era infortunato infortunato ecco infortunato però era più una scusa che la realtà perché no Palma aspetta con Carrera si è infortunato davvero con Carrera si è infortunato veramente però ma sicuro forse non era tutto questo infortunio da farlo stare fuori tre mesi ma no ma va bene l'infortunio è recente l'infortunio è recente prima era Castori sì siamo d'accordo con te stiamo dicendo la stessa cosa allora siccome ci scrivono altre persone vogliamo salutare Giuliana ecco vedi ecco Giuliana è la prima che devo salutare prima di tutti Eugenio non l'hai salutato lo sai che ha urlato tantissimo dopo il gol di Botteghini Eugenio? sì ma se tu sai che io per come sto messa in questo momento io la parapartita non la sento però io ho acceso il televideo per vedere come stava e stava solo 0 a 0 allora ho detto io signore mio fai che invece del 0 a 0 diventa 0 a 1 brava ma è saudito dopo due minuti uno tu non sai che sono andata via di casa da un'amica mia perché pensavo dico ma magari immagino quindi non puoi ascoltare neanche le partite alla radio beh no io se sto sicura che l'Ascoli è salva per me allo stadio ci vado sicuro anche l'ultima partita allora andiamo con i saluti che abbiamo una telefonata che incombe io non ho potuto parlare che inna che fa i comizi vabbè oggi hai parlato solo tu vabbè abbiamo salutato Giuliana adesso saluta gli altri dai che abbiamo qualcuno che aspetta subito subito saluto Teresa e Alfredo Teresa e Pino che Pino gli vogliono bene da morire Gemma la moglie perché due brave persone pure Teresa poi dopo Penna Bianca con la moglie e poi dopo Paola Paola e Riccardo e Riccardo che sono quello di Bagliari ah va bene che hanno una cosa sì e ok allora mercoledì c'è la partita tu non ci sarai Mariano Mariano e Basilio ciao Mariano ciao Basilio oh ha detto che piova di rotto giovedì come si fa meglio tanto giochiamo mercoledì esatto va bene vabbè giochiamo il primo sì va bene ti salutiamo grazie Palma ciao buon primo maggio a tutti qua ciao e tu ricordati Edoardo eh sì ma si ricordo preoccupare io ricordo io se si avverano le cose dopo bisogna farlo sì io ti chiedo il certificato agonistico però io non voglio responsabilità ciao Palma ciao a tutti buona trasmissione grazie abbiamo una telefonata ecco buonasera chi parla buonasera a tutti Fuglio Ferretti ciao Fuglio vabbè una vittoria come posso dire da Ascoli sì dalla storia dell'Ascoli da storia dell'Ascoli esatto riprendo un po' il discorso di Palma lei ha pregato probabilmente dall'assù qualcuno ancora fa il tifo e adesso proviamo a a vedere in questi tre partiti che succede fermo restando fermo restando che le difficoltà oggettive se giochi con partite vere con squadre organizzate non sarà facile quindi perlomeno c'è la possibilità di trovarci non era facile ci ha detto bene altre volte ci ha detto male volevo solo ripetere una cosa che dico da tempo salvo due tre giocatori e non parlo degli stranieri arrivati che non sono in grado di potersi adattare perché l'errore è stato fatto per chi va presi perché magari il prossimo anno se dovessimo rimanere magari diventano due fenomeni ma tutti i giocatori stranieri per adattarsi al calcio italiano poi Bartolomeu si arrebbero un sacco di tempo ma figuriamoci la gran parte dei giocatori hanno dimostrato di non essere responsabili della situazione di classificanti per me hanno sempre dato tutto anche molto di più di quello che potevano dare molti e quindi l'aspetto positivo di questa stagione è il comportamento esemplare di correttezza di tantissimi giocatori magari non di grandissimo livello ma che sono entrati nella mentalità Ascoli e questo è forse la cosa più bella di questo campionato per il resto vediamo forza grazie grazie Giuliana di Monsampolo ci ricorda visto che abbiamo nominato Cioffi che segnò ha un bellissimo gol di testa questo me lo ricordo anch'io infatti io proprio quello ho detto che siccome aveva segnato quel gol a parte ha fatto solo quello nonostante poi in attacco sia andato altre 20 volte però era un'occasione per ricordare che noi siamo stati fra i precursori del mandare in avanti i difensori alti e lunghi anzi di buttare dentro addirittura dalla panchina per farli giocare in attacco chi si lamenta per le parolacce di Dionisi ha torto a prescindere Dionisi non si tocca manco da avversario magari avercelo ancora un saluto a voi a Palma Giuliana da Monsampolo che ama appena appena l'ex capitano volevo segnalare invece lì c'è Stefano volevo segnalare che il calcio d'angolo del gol è nato da un passaggio al volo di Celia dalla sinistra giocatori dalle giocate semplici ma sempre efficaci forse Zedadka in quella situazione avrebbe stoppato quella palla e la partita sarebbe finita in parità Stefano hai ragione nel dare merito a Celia per il gesto tecnico poi sui forse sui se lasciamo perdere perché potremmo dirne tanti 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 quindi è ovvio che è andata come è andata quindi ce la prendiamo un altro messaggio l'ultimo probabilmente Roberto da Magliano di Tenna no non è l'ultimo c'era un altro la partita su Tirol Ternana credo e spero sarà una partita vera in quanto il su Tirol è ancora tre punti nel playoff e con una vittoria se la potrebbe ancora giocare confido anche nelle vittorie di Venezia e Como così almeno alle ore 18 tra Bari e Parma sarà partita vera magari anche una bella sconfitta del Pisa in quel di Cremona non sarebbe male in vista della nostra ultima partita casalinga cioè per togliere il Pisa dalla lotta per i playoff dici tu anche se poi il Pisa ricordo che dovrà giocare mi sembra c'è un'altra partita importante prima della nostra ah no gioca su Tirol quindi in effetti se ne dovesse perdere tutti e due sarebbe molto meglio hai ragione dicevamo del Pisa se i nerazzurri non avessero nulla da chiedere alla fine chiaramente sarebbe buona cosa per noi comunque mercoledì primo maggio contro il Cosenza del nostro ex mister Viali di sicuro più che avvelenato nei nostri confronti per l'esonero non sarà facile in qualche modo dobbiamo fare bottino pieno ci dobbiamo salvare a tutti i costi sempre solo forza picchio Edoardo però Viali ha già messo un po' le mani avanti hai sentito le dichiarazioni di oggi ha detto che ad Ascoli per noi non sarà per niente facile secondo te perché? perché una frase del genere invece di incoraggiare la squadra come dire non so se è per mantenere la concentrazione o per dire oh se perdiamo abbiamo perso comunque su una piazza difficile in una squadra che sta andando bene non ho capito bene il senso di questa uscita perché secondo me vuole concentrare l'attenzione sulla sfida consapevole che sarà una partita da combattere pesante con due squadre che dovranno gestire soprattutto i nervi e secondo me vuole tutelarsi tra virgolette il più possibile dopo una vittoria schiacciante come il 4-1 con il Bari che può lasciare ad andare a feste troppo presto sì feste no però insomma i 42 punti 6 a più 5 a 3 giornate dalla fine con una partita da giocare in casa che è contro lo Spezia quindi uno scontro diretto che ti tutela ulteriormente dal mantenerti lontano da quella zona lì e poi l'ultima giornata comunque il Cosenza va a Como e lì potrebbe essere un problema non fare punti perché il Como se non fa un miracolo nel senso che arriva già con tutti i due i piedi in Serie A dovrà vincerla però io credo che è tutto nelle loro mani il Cosenza ce lo Spezia in casa ce lo batte perde con noi vince con lo Spezia siamo tutti contenti noi viali sì sì questo è verissimo diciamo che poi ne parliamo spesso secondo me soprattutto ultimamente le conferenze stampa soprattutto pre partita hanno perso un po' di di quella magia cioè difficilmente si sentono dichiarazioni forti o che fanno notizia poi nella nostra storia recentissima proprio con Viali ne ricordo davvero poche in cui magari si sbilanciava un po' ed eravamo di inizio campionato allora per concludere l'ultimo messaggio Viali è forte che se ne tornino in Calabria con le terga a strisce per restarci mercoledì sosteniamo la squadra mettiamo da parte tutto il resto e salviamoci aggiungo che visto lo scorso weekend non diamoci per sconfitti a Palermo troppo presto forza picchio sempre no per sconfitti mai e poi mai io mi auguro anzi che il Palermo qualche punto lo faccia per rimanere cioè vinca la prossima lo dico chiaramente mi interessa anche perché così con noi è un po' più tranquillo perché visto che dopo se no gli rimane solo la partita con noi in casa diventa un problema se dovessero avere bisogno di punti per il playoff ad ogni modo noi intanto vi salutiamo vi ringraziamo per averci seguito ringrazio Edoardo Siriaci intanto per la presenza grazie a voi Eugenio Gaspari per la regia come al solito pregiatissima vi ricordo che quindi ringraziando anche Emiro per tutti i dati che ci ha mandato vi ricordo dicevo che c'è la partita da seguire mercoledì chi non potrà essere allo stadio alle ore 15 il primo maggio può accendere latte e miele sentila noi soprattutto se sei in macchina e comunque noi ce la metteremo tutta per dare la carica ai nostri ragazzi per un per bissare e fare finalmente magari due vittorie consecutive che sono un miraggio quest'anno per l'Ascoli vero Edoardo mi sembra non l'abbiamo fatta mai quest'anno due no due no due di fila allora è la di fila magari anche tre va bene pareggia ormai non prendiamo gol da tante partite continuiamo questa bella scia positiva grazie a tutti da Alberto Crementi un saluto e appuntamento al Del Duca mercoledì ore 15 le nostre trasmissioni sportive e le radio cronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti azienda specializzata nella produzione di compound materiale plastico in forma granulare Fineplast zona industriale Campolungo Ascoli Piceno se punti alla cucina ascolana usa l'arco ristorante pizzeria l'arco la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole venerdì sera baccalà su prenotazione ristorante pizzeria l'arco via 4 novembre Maltignano chiuso il mercoledì telefono 0736 304490 ristruttura e arreda la tua casa con noi Nardinocchi arredamenti è qualità stile design e ampia scelta di pavimenti rivestimenti e arredo bagno per un vero servizio chiave in mano tutta la tua casa firmata Nardinocchi showroom ad Appignano del Tronto e Porto d'Ascoli arredamentinardinocchi.it e ora con il bonus mobili il risparmio è assicurato birreria pizzeria Alpenrosa anche paninoteca e ristorante con sala fumatori terrazza all'aperto maxi schermo con sky e rete wifi free Alpenrosa pizzeria al piatto e al metro hamburgeria con le migliori carni come chianina irlandese americana e marchigiana entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici Alpenrosa aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via 37 angolo lungomare Marconi Alba Adriatica per info e prenotazioni 0861 7108 66 seguici su facebook sulla pagina birreria Alpenrosa Alpenrosa Prosit Autofficina Cappelli SNC Centro Riparazione Peugeot Gommista Elettrauto Centro Revisione Ad Ascoli Piceno In via del Commercio 18 Pizzeria Pizzeria e Buona Furia In via Dino Angelini 3 ad Ascoli Piceno troverai impasti ad alta idratazione realizzati con un blend di farine tutte rigorosamente a marchio bio con grani marchigiani pizza al taglio al piatto d'asporto e in loco Pizzeria e Buona Furia naturalmente buona telefono 0736 262734 due rotelle gambero rosso e vincitrice di Pizza Hero Ascoli Piceno Tutto il bello e la qualità di casa nostra per dare valore alla tua da nardinocchi arredamenti sono materiali pregiati assemblati da sapienti mani italiane per divani cento per cento artigianali vieni a provarli nel nuovo showroom ti aspettiamo ad Appignano del Tronto info e appuntamenti 0736 86 250 eh già sembrava la fine del mondo ma sono qua Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via palestro 17 Pizzeria da Bruno due forni a legna pizza ad alta digeribilità vari impasti menu gluten free consegna gratuita e se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20 avrete uno sconto del 15 per cento Pizzeria da Bruno primo su TripAdvisor io sono ancora qua Radio risultati classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli di Radio Latte Miele di Radio Latte Miele